ciao a tutti ragazzi riecomi qua sono megateaker e come vedete qua davanti a me ho fatto prima possibile perché so che è un argomento molto richiesto vi ho portato la recensione completa delle nuove cuffie per xbox se avete visto l'unboxing queste cuffiette vengono 99 euro di listino mi sono già espresso dal punto di vista qualitativo e confermo abbastanza tutto quanto detto in fase appunto di unboxing salvo poi andare a spiegarvi alcuni aspetti che invece non mi hanno convinto tantissimo ma prima di andare avanti con la recensione vorrei dirvi a inizio filmato 3 4 cosine molto importanti innanzitutto registratevi al canale accendete la campanella per essere sempre aggiornati sui miei nuovi video e se vi sarà piaciuto il video alla fine mettete un pollicione andate poi in descrizione andate sempre in descrizione a vedere il link utile a far crescere megateaker ma tutti i link della mia attrezzatura e delle cose che potrete comprare se lo vorrete direttamente dai miei link affiliati amazon ed infine fatevi un giro su xbox italia al gruppo facebook con il quale da un po' di tempo a questa parte sono in collaborazione per portare le mie recensioni anche sul loro gruppo ma finite queste premesse so che state scalpitando per sapere le mie impressioni o comunque il mio giudizio su queste cuffie ed in ordine totalmente sparso andrò a elencarvi quelli che sono per me i pregi e i suoi difetti di fatto avevo notato una morbidezza eccezionale di questi padiglioni confermo sono tra i padiglioni più morbidi dove mettere il naso no quelli erano i fazzoletti dove mettere le orecchie ragazzi salvo poi però vanificare un po' questa comodità col fatto che di padiglioni non sono granché grossi chi come me è dotato di padiglioni auricolari piuttosto importanti non avrà l'orecchio alloggiato perfettamente all'interno o comunque non sarà all'interno in modo comodissimo il padiglione poi è molto molto elastico va ad aderire perfettamente alla nostra testa e questo unito al fatto che il materiale è simil pelle da un lato ci isolerà acusticamente quindi questo sicuramente una cosa gradita ma dall'altro ci farà sudare e non poco contate che non siamo in estate in casa mia non c'è sicuramente un caldo tropicale e a me questi padiglioni davano abbastanza fastidio parlando sempre di comodità l'archetto sinceramente l'ho trovato molto comodo così come comodo è il sistema di regolazione sistema di regolazione che vi devo dire una sua caratteristica ossia che una volta indossate quindi allargate le cuffie di fatto c'è un meccanismo interno che non fa scorrere l'archetto questo da un certo punto di vista è molto comodo perché non vi capiterà mai di perdere la regolazione fatta in precedenza una volta indossate però se come capita tante volte a me magari durante l'utilizzo le voleste allentare o comunque stringere un pochettino ebbene dovete toglierle dalla testa andare a regolare e rimetterle in testa quindi un coltello a doppia lama da una parte comodo dall'altra fate voi queste cuffie sono un po l'emblema del coltello proprio a doppia lama è la definizione più giusta che mi viene da dargli ad esempio le regolazioni a padiglioni sono veramente veramente comode in realtà abbiamo una grossa zona morta entro la quale da inizio corsa la cuffia non alzerà il volume e non lo abbasserà ma quello che vi dicevo essere la lama doppio taglio è il fatto che quando le prendete le allargate sulla testa spesso volentieri andrete quindi a modificare anche il balance ed il volume un'altra particolarità che avevo notato già in fase d'unboxing che la rotella del balance è molto più rigida nel movimento e molto più solida della rotella del volume che è molto più molla e guardate qui anche un leggero gioco questi comandi poi verranno sempre sollecitati qualora andrete ad allargare le cuffie a prendere perché la posizione più naturale quando ce l'avete è quella di prendere appunto da qua la cuffia allargare e quindi andrete sempre comunque a sollecitare questi due meccanismi ovviamente vedremo alla lunga se questo porterà qualche problema un altro piccolo inconveniente della presa che come vedete se voi andate a ferrare la cuffia spesso il ditone pollice andrà a scontrare inadvertitamente il tastino del volume come avete visto la lucina si è spenta subito perché per spegnere la cuffia non serve una lunga pressione ma in me una cliccata farà sì che si spenga questo come vi dicevo inadvertitamente preparatevi vi accadrà spessissimo quando le andrete a tocchignare dalla vostra testa quanto meno ragazzi per le prime volte poi probabilmente vi ci abituerete imparerete a conoscere la vostra cuffia e magari invece di mettere il ditone lì come faccio sempre io lo metterete un po più sopra e non avrete più questo problema comodissimo il tasto del mute assolutamente comoda la posizione comodo anche il led visivo tra l'altro regolabile in illuminazione ma sinceramente un pochettino sacrificato nel senso che essendo molto corto come vedete il gambo una volta indossate vedrete questa luce solo con la coda dell'occhio e quindi il mio consiglio è quello di tenere il più luminoso possibile perché se andate ad abbassare questa lucina spesso e volentieri farete poco caso al suo stato per chi avvisse il dubbio sul fatto della loro funzionalità durante la ricarica confermo che le cuffie una volta scariche anche se le andrete a caricare continueranno normalmente a funzionare e per chi avesse il dubbio come avevo io all'inizio la connessione bluetooth e la connessione wifi si ottiene tenendo premuto il tasto di accoppiamento delle cuffie ecco lì che dopo una lunga pressione andrà a lampeggiare in questa maniera vi basterà schiacciare sulla xbox il tastino di accoppiamento oppure nel caso fosse da pc sulla chiavetta wifi dovrete schiacciare il tastino della pennetta usb per quanto riguarda poi il microfono ragazzi chi è stato in gruppo con me mi ha detto che sentiva poco bene la mia voce quindi io ero molto preoccupato sinceramente per la qualità di questo microfono sono andato a fare diverse prove audio di registrazione che vi porto qua nel video in due maniere una con collegamento bluetooth al computer e la successiva col collegamento wifi al computer ditemi voi alla fine dopo aver sentito appunto la voce se effettivamente vi sembra così scarso il microfono ok questa è una prova di registrazione con le cuffie collegate al pc tramite bluetooth ovviamente in questo momento non ho ancora ascoltato i due audio quindi non so se la connessione bluetooth fa rendere meglio o peggio il microfono andiamo quindi a provare la connessione wifi ok eccoci qua in questo momento invece le cuffie sono collegate tramite wifi tramite la chiavetta della microsoft al computer fatta questa prova ovviamente avremo le idee ben chiare se cambia qualcosa a livello di registrazione tra collegamento wifi e bluetooth per quanto riguarda poi la connessione appunto wifi e bluetooth parliamo quindi di range dalla console dal punto di trasmissione ebbene sì non è tra i migliori in bluetooth e non è tra i migliori in wifi però diciamo che il wifi si difende bene e soprattutto ha una ripresa del segnale fulminia io mi allontano dalla mia console perdo il segnale dopo due tre stanze ritorno indietro e queste cuffie si riattaccano alla console all'istante idem stessa cosa per il bluetooth però ripeto ho provato delle cuffie che hanno un segnale molto più potente e quindi il range maggiore ad ogni modo non stiamo parlando di una distanza di un range preoccupante potrete tranquillamente cuffie in testa andare nella stanza vicino prendere un bicchiere d'acqua tornare indietro senza perdere assolutamente il segnale cuffie poi che accendono la consola all'atto dell'accensione delle cuffie stesse questo da un lato di nuovo è un lato positivo ma se volete usare le cuffie in bluetooth questa caratteristica sicuramente sarà d'intoppo perché ogni volta che le andrete accendere si accenderà anche l'xbox dovrete andare a spegnere l'xbox e poi godervi la vostra connessione bluetooth tra l'altro segnalo che se le cuffie sono connesse a un altro parecchio in via bluetooth allo spegnimento della console loro resteranno accese quando invece non sono collegate a nulla non sono collegate a un'altra fonte bluetooth se andrete a spegnere l'xbox anche esse si spegneranno e questo sicuramente è un plus che mi è piaciuto ragazzi direi di spostarmi sul software di configurazione è un punto sicuramente positivo perché è molto semplice lo andremo a vedere insieme e alcune caratteristiche rimanenti delle cuffie che mi sono piaciute ve le elenco direttamente facendovi vedere il software eccoci qua sul mio pc accessori xbox è il programma che dovrete andare a utilizzare per configurare le vostre cuffie con i tre puntini potrete entrare nella verifica di firmware se ci sarà un nuovo firmware lo potrete andare ad aggiornare da qua come vedete c'è anche il livello della batteria segnato qua in alto alle cuffie ma adesso torniamo indietro andiamo in configurazione e vi faccio vedere un attimino che opzioni ha questo software partiamo dall'equalizzazione equalizzatore come vedete game bassi potenti comandi vocali film musica oppure personalizzata ovviamente con personalizzata potrete andare a cambiare le vostre frequenze e tentare qualche configurazione c'è poi un'impostazione dell'incremento dei bassi io sinceramente questa non l'ho mai utilizzato o meglio l'ho provata ma dato quello che vi sto per dire sul discorso delle cuffie penso che di bassi ce n'è già abbastanza e non se ne debbano aggiungere ulteriormente il rischio è quello di ovattare veramente tanto il suono renderlo troppo ricco di bassi che già come vi dicevo la cuffia tende a farlo questa impostazione invece disattiva audio automaticamente è molto molto carina di fatto la cuffia capisce quando state parlando e quando non avverte la vostra voce disattiva in maniera più o meno sensibile il microfono delle cuffie io sinceramente vi sconsiglio la disattivazione alta ho preferito per mia esperienza la media ma ancora di più la bassa l'ultimo passaggio ragazzi è il monitoraggio del microfono ritorno quindi in cuffia della nostra voce questo ovviamente permette di non urlare come degli ossessi nelle sessioni di gioco non svegliare tutto il vicinato e anche qua come vedete si può spaziare da un totalmente disattivato a un ritorno basso in cuffia medio e alto ovviamente alto non pensate di sentire pari pari la vostra voce si parla sempre comunque di una cosa che vi permetterà di godere l'altro suono quello del gioco e della chat ma semplicemente appunto varierà dal più alto al più basso modificando questi parametri come avete notato uscito dal programma si è disconnesso perché la cuffia appunto se non viene utilizzata per un po di tempo poi va in stand by e va a spegnersi da sola direi di ritornare con le cuffie davanti all'obiettivo per tirare le nostre conclusioni riacci qua ragazzi come vi dicevo siamo alle conclusioni e quello che è il mio parere tirando tutte le somme sommando pregi e difetti e quindi vi dico che secondo me queste cuffie valgono assolutamente l'acquisto tra l'altro prima mentre parlavo mi ero scordato di farvi vedere questo posizionamento io quando avevo unboxato avevo notato i padiglioni non ruotassero pensavo già di doverle appoggiare così sulla scrivania invece guardate che carine col fatto che è tutto piatto si possono appoggiare così ad ogni modo sto divagando stavo dicendo che le cuffie sono per me consigliate hanno sicuramente un sacco di aspetti positivi ve lo detti altri che vanno un po cozzare contro gli aspetti positivi ma nel complesso anche complice il fatto di un volume molto alto e comunque di un suono gradevole la spesa di 99 euro secondo me ci sta assolutamente tutta non vi posso dire che l'audio sia tra i miei preferiti ho trovato cuffie che mi sono piaciute di più è un audio come vi dicevo che tende ai bassi chi amante dei bassi sicuramente amerà queste cuffie chi amante dei medi e degli alti comunque di un suono più cristallino più pulito magari beh non forse non sono le cuffie che fan per lui ad ogni modo più che di difetto di audio mi sento di dire che sono assolutamente gusti personali soggettivi la cuffia suona bene avrete tra l'altro il dolby atmos a tenervi compagnia che sapete essere un ottimo dolby e quindi ragazzi se torneranno disponibili perché comunque sono andate a ruba sia sul sito microsoft che su amazon per quanto mi riguarda l'acquisto è consigliato per questo video direi che è tutto ragazzi vedeto vita morte e miracoli penso di aver detto anche qualcosa che in giro non è stato detto e quindi ripeto spero di essere stato utile se vi è piaciuto il video lasciate un like registratevi come ho detto all'inizio e noi ci vediamo qua sul canale di mega ticker e per quanto riguarda xbox se volete anche sul gruppo facebook ci vediamo ragazzi un saluto e ciao 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 ciao